Ben ritrovati amici di Seinauto, anche oggi abbiamo strutturato la nostra puntata ad hoc per voi appassionati del settore dell'automotive. Ci troviamo dal gruppo progetto da oltre 40 anni del punto di riferimento del marchio FCA, collocato in corso Unione Sovietica 141 a Torino. Quest'oggi siamo in compagnia di Sergio Lai. Ciao Sergio! Ciao Vittorio e ben ritorno a tutti! Allora Sergio, io so che qui avete un progetto che si chiama Tutto è possibile, ce lo spieghi? Esattamente, una formula veramente interessantissima dove potete acquistare la vostra vettura senza anticipo ma soprattutto senza pensieri. Ad esempio potete acquistare o una Fiat Panda, una Fiat 500 o una Lancia Y senza anticipo e con 5 anni di furto incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, rifacimento chiavi e in più 5 anni di garanzia, 5 anni di tagliandi e la nostra tessera Fidelity Card. Tutto a partire, ricordatevi, una data piccolissima da 89 euro al mese e poi al terzo o al quinto anno potete decidere voi se restituire la vettura e comprare un'altra oppure tenere la vostra vettura. Le sorprese non finiscono qui perché pensate, aggiungendo soltanto un euro vi potrete portare a casa o un iPhone 12 oppure un Samsung S10. Che cosa state aspettando dunque? Venite subito a scoprire con noi le offerte che abbiamo per voi dedicato. Da progetto anche marchio Jeep, come questo splendido Jeep Renegade 2WD o 4WD a partire da 16.900 euro. Da progetto anche vetture aziendali come questa splendida Jeep Compass, questa a pochissimi chilometri, è un prezzo veramente interessantissimo. Interessantissimo, prezzo shock, 20.900 euro con la formula tutto è possibile e ricordate che con un euro in più potete scegliere o un Samsung S10 o un iPhone 12. Da progetto offerta nel mese a un prezzo veramente shock. Panda a partire da 6.900 euro vetture aziendali con la formula tutto è possibile. Splendida anche questa bellissima Lancia Ypsilon, anche qui un prezzo veramente interessantissimo a partire da 8.900 euro vetture aziendali con la formula tutto è possibile. Appena arrivata in progetto questa splendida 500 allestimento Mirror colore bellissimo blu Italia è un prezzo veramente interessantissimo a partire da 9.900 euro sempre con la formula tutto è possibile. Siamo giunti al termine della nostra puntata, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, naturalmente ringraziamo anche Sergio. Grazie a te Vittoria, vi aspetto numerosissimi, vi ricordo che la progetto è sempre aperta solo ad esclusione della settimana di Ferragosto. Ricordiamo sempre la formula tutto è possibile. Qui in Corso Unione Sovietica 141 a Turino e mi raccomando seguiteci anche sulle nostre pagine social. Alla prossima!